ciao ragazzi come state spero bene anche oggi ci ritroviamo per l'allenamento del giorno io sono mario il coach oggi ho messo alla lavagna alberto quindi guarda bene questo riscaldamento che ha fatto come sempre occhi e movimenti qualsiasi domanda sugli esercizi iscriviti sotto ci vediamo alla forza ciao e questa qui è la forza ragazzi mi sono agganciato anch'io insieme ad alberto abbiamo dato tutto abbiamo trovato un peso circa un 60 kg da 6 per 1 l'abbiamo portato a 9 per 1 non è stata molto difficile siamo rimasti intorno all 80 per cento del nostro 1 rm se tu hai bisogno su qualche riferimento dei tuoi massimali o vuoi migliorare la forza mi fai qualche domanda sotto e noi ci vediamo ragazzi questo workout non è facile per niente è bello intenso attenzione su tre minuti dovessi svolgere i primi tre esercizi non facilissimi di alta intensità media e alta intensità e poi altri tre esercizi anzi quattro esercizi perché ho aggiunto anche il plank finale dai un'occhiata a questi movimenti non sono facili noi ci abbiamo provato se tu hai qualsiasi domanda o qualche dubbio mi scrivi ti avviso ancora di iscriverti al canale è vero che lo farai oppure al massimo lascia un mi piace noi ci vediamo domani e tu allenati bene ciao ciao